Ciao a tutti, bentornati. Allora, la guerra mediatica tra Chiara e Fate continua e senza esclusione di colpi. Ultima in ordine d'arrivo è stata la live nel primo pomeriggio di ieri dal canale di Fate con titolo Chiara ed Alessandro minaccia gli amici di Dennis. Manco a dirlo i collegati erano tantissimi, tutti curiosi di capire cosa era successo stavolta. Fate parte subito col rigettare l'accusa di essere una razzista, mossa proprio da Chiara. Ma da dove nasce questa accusa? Nasce dal fatto che Fate nel suo post in community ha scritto che Chiara si serve da siti che hanno gli uffici con sede a Bagdad, volendo solamente intendere che in quelle zone del mondo la mano d'opera costa molto meno rispetto ad altre parti. Quindi ok, andiamo avanti col discorso perché questo voleva essere solamente un piccolo chiarimento, mentre invece adesso andiamo a quello che è il vero e proprio piatto forte. Vi ricordate quando Chiara nella sua ultima live buasta ha intimato a Dennis di essere in contatto con una persona molto vicina a lui? Arrivando a dare anche degli indizi affinché Dennis riconoscesse la persona di cui lei stava parlando. E andiamo con gli indizi che ha dato Chiara. Allora Chiara dice che questa persona è un uomo, un ragazzo, e il suo nome inizia per G e finisce con O. Gustavo? Gerardo? Galogero? Il secondo indizio che dà Chiara è Range Rover e poi si fa riferimento ad un usignolo. Concludendo il discorso dicendo che da questi pochi indizi Dennis sicuramente riconoscerà la persona di cui lei sta parlando. Lasciando intendere che questo Mr. G è in contatto privato con lei e che saputo l'accaduto le ha dato piena ragione. E che anzi si è tanto meravigliato di questo comportamento così delinquenziale da parte di Dennis. Come è facile immaginare dopo questa live di Chiara dove ha dato questi indizi qualcosa in privato si è mosso e pare che il soggetto misterioso si è messo in contatto con Faith dichiarandosi estraneo alla faccenda e soprattutto sottolineare il fatto che lui con Chiara non ha mai avuto nessun contatto. Dandole addirittura il permesso di rivelare la sua identità. Ebbene sia pare che il soggetto misterioso sia Graziano che altro non è che il miglior amico di Dennis che ha sbugiardato Chiara dicendo che con lei non ha mai avuto alcun contatto. Pertanto tutto quello che ha detto nel corso della sua live è tutto falso. Che quindi Chiara aveva come unico scopo quello di intimidire Dennis. Che ora detto tra noi anche stupida come minaccia perché era ovvio che i due essendo amici si sarebbero confrontati privatamente e si sarebbero ragguagliati sulla faccenda. E quello avrebbe detto ma chi è sta Chiara ad Alessandro ma chi cazzo la conosce. Quindi ricapitolando il ragazzo di cui parla Chiara si chiama Graziano vende Range Rover e vive in via Usignolo a Roma. Ed ecco spiegati tutti i riferimenti fatti da Chiara nella sua live Buasta. Quindi la situazione attuale è che Dennis è in totale silenzio e Chiara continua a minacciarlo tirando continuamente in ballo altre persone della cerchia di amici barra famiglia di Dennis. Nell'ordine la madre, il cugino, il miglior amico, il datore di lavoro. Stesso discorso vale per il cugino di Dennis Alessio che a detta di Chiara l'aveva implorata di non denunciare e che avrebbe parlato lui con Dennis per farlo rinsavire. Che poi a oggi non si è ancora capito da cosa dovrebbe rinsavire Dennis dato che sta rispettando un religioso silenzio. Quindi manco sta intervenendo nelle live di Faith però si vede puntualmente attaccato. E quindi pare che anche questo secondo contatto citato da Chiara cioè col cugino neanche sia mai avvenuto. Beh effettivamente sta andando un po' troppo oltre la cosa. Le viene ricordato più volte che lei ha un debito con Dennis. Il ragazzo che ha etichettato come violentatore, maniaco, stalker. Quando poi questo ragazzo è stato l'unico a dargli una mano quando la loro auto si è fermata in autostrada. Cioè ci pensate due intere famiglie e nessuno ha mosso un dito per loro. L'unico a dargli una mano è stato questo ragazzo che tra l'altro non vivere anche a Milano stava a Roma. Che in primo luogo si era offerto di partire da Roma con la sua auto per andare lì a Milano a recuperarli. Poi la cosa non è risultata fattibile perché sarebbe trascorso troppo tempo e quindi si sono limitati a chiamare un carattrezzi e credo che anche in questa occasione il finanziatore sia stato Dennis. Ora per chi ricorda la faccenda era successo anche che Dennis aveva contattato un tassi che li andasse a recuperare. Loro erano lì fermi in autostrada. Questo tassi praticamente gli è passato davanti, non li ha caricati ed è andato dritto. Avrà pensato che se sicuro non c'hanno manco i soldi per pagarmi. Quindi parliamo sempre di Dennis lo stesso ragazzo che per loro era sempre disponibile. Gli faceva prestiti se avevano difficoltà, li ospitava a casa, gli aveva addirittura offerto il viaggio alle Maldive. Anzi questo mese di dicembre sarebbero pure dovuti partire. Viaggio saltato però aveva ragione. E quindi Faith proprio sul discorso Maldive dice ma ve li immaginate sti due alle Maldive? Con i panini della Conad? Lei con la borsa di allocchitti? E le ciabatte tigrate? E come se non bastasse accompagnata da lui col completino del Milan? E beh effettivamente a immaginare una cosa del genere fa ridere. E adesso andiamo a trattare la nota sentimentale in tutto questo. Sì perché c'è una nota sentimentale in tutto questo. Ed è rappresentata da Davide che ha perso il suo migliore amico barra fratello. Quello con cui si confidava, parlava male di Chiara, gli esponeva i suoi piani per eliminarla. E ora quindi a chi li racconterà tutti i suoi sogni? Ora però chiudiamo il discorso sentimentale e parliamo di Davide. Davide che ruolo ha avuto nella faccenda del clarinetto Gate? No nel senso che abbia subito anche lui moleste ma quando Chiara ha dichiarato che è venuta su dal mare fresca di schiaffo a Dennis ha raggiunto Davide che era seduto sull'asdraio e che lei gli ha subito confessato tutto? Ora volendo partire dal presupposto che l'episodio non è mai accaduto e quest'uomo comunque pubblicamente si mostra molto accondiscendente con la moglie appoggiandola no in queste sue dichiarazioni ma quando sono in privato possibile che non gli venga mai quel dubbio, quel lampo di genio di chiedere alla moglie ma che cazzo stai a dir? Ma perché ti stai inventando tutte ste cose? O magari il solo vederle fare ste cose cioè non ti fa pensare che allora sta donna qui è capace di tutto e che più di tanto non ti ci puoi fidare perché se lo fai agli altri è facile che lo faccia anche a te. Bene e questo voleva essere un breve riassunto di quella che è stata la live di Faith mentre in conclusione del mio vlog volevo porre attenzione su un episodio che è accaduto nel corso di una delle tante live di Chiara dove lei raccontava dei preparativi per il Natale che sta effettuando a casa D'Alemberti e ad un certo punto è intervenuta la signora Daniela scrivendo in chat che lei a casa sua non ha neanche le lucine sull'albero. A quel punto tanti utenti rattristandosi per la faccenda hanno chiesto a Chiara siccome ha un mare di decorazioni a casa sua di regalare un po' delle sue decorazioni alla signora Daniela affinché possa allestire anche lei un bell'albero di Natale. Non ci crederete mai ma la dolcissima Chiara si è rivoltata a bestia in vendo contro gli utenti che le hanno fatto questo gentile invito dicendo voi non sapete cosa succede in privato tra me e mia suocera quindi come potete parlare di queste cose che non conoscete? Oddio ma è ovvio che non ne hanno proprio parlato in privato perché altrimenti la signora Daniela non sarebbe mai arrivata a scrivere pubblicamente sta storia delle lucine. E quindi che dire Chiara farebbe più che bene a passare qualche decorazione alla signora Daniela. Poi un'altra cosa che è stata detta nella live di Faith ora io non lo so se la storia è vera però se fosse vera sarebbe davvero la prima bella cosa che sento fare a Davidoppolo e cioè che tutti gli introiti ricavati dal suo canale li passa ai suoi genitori per aiutarli a far quadrare il bilancio familiare. La cosa è bella ma è anche un po' strana perché per chi conosce Chiara ai suoi precedenti sa benissimo che quando vivevano ancora con i suscerini e c'era stato il guasto alla caldaia che non funzionava più e per sistemarla praticamente dovevano fare circa 50 euro a testa lei in quel momento sebbene usufruisse anche lei della caldaia perché comunque generava l'acqua calda e quant'altro si è tirata indietro rifiutando di pagare la sua quota. Quindi questo episodio genera l'impressione che Chiara sia generosa solo con se stessa ma quando si tratta degli altri è un po' di braccino corto. E questo per il momento è tutto. Chiedo scusa per la voce ma sono davvero tanto tanto raffreddata e credo che si senta. Comunque bene ma non benissimo vi lascio augurandovi buona continuazione di giornata vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossip